Prenderanno il via sabato 4 gennaio in Liguria e in gran parte delle regioni italiane i saldi invernali del 2020. Secondo la tradizionale indagine condotta ogni anno su scala nazionale da SWG per confesercenti, il 41% degli italiani hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti per un budget medio previsto di 168 euro a persona. Anche Genova è il centro storico in un periodo in cui la visita in negozio è sempre maggiormente e dilaniata dal boom di compere online si prepara i saldi che dureranno sino al 17 febbraio. Con la data così alta, il 4 gennaio, aspettiamo un'affluenza copiosa e numerosa per cui il centro storico in particolare anche a Via Lucoli si prepara un'accoglienza. Tanti anche i turisti che si vedono oggi per le strade di Genova hanno l'opportunità anche di approfittare della sosta natalizia che ha portato davvero tanti turisti in tutto il nord d'Italia. Sì sì sì, infatti direi che è una data che soprattutto si adatta bene ancora alle vacanze, agli ultimi giorni di vacanza per cui aspettiamo anche affluenza turistica nei nostri negozi sicuramente. Si parla di un leggero calo rispetto al 2019, l'impatto potrebbe essere anche dovuto a un Black Friday che quest'anno è caduto all'ultima di novembre quindi molto a ridosso insomma delle spese natalizie, questo può avere un effetto un po' negativo sui saldi invernali? Beh penso che comunque eventi di scontistica o che prevedono sconti nel commercio tutto l'anno in generale contribuiscono a una perdita di appeal a quelli che sono i saldi che sono l'evento per eccellenza di sconto sia per il cliente che l'occasione per il commerciante di alleggerire il magazzino e finire i capi di stagione. Sicuramente quest'anno poi il Black Friday è stato il 29 novembre dunque una data che coincideva con la prima apertura domenicale di Natale quindi mi sembra proprio troppo vicino alle spese natalizie e troppo vicino a una data dei saldi che è già malposta di suo. Per l'intera giornata di sabato 4 gennaio su tutto il territorio genovese l'amministrazione comunale ripropone inoltre la sosta gratuita nelle zone blu area e nelle isole azzurre ossia le aree gestite da Genova Parcheggi. Anche quest'anno aderisce all'iniziativa APCOA per quanto riguarda i parcheggi di Piazza della Vittoria gestiti a parcometro per la sola giornata di sabato. Mentre per quanto riguarda i parcheggi nelle zone blu area e nelle isole azzurre la gratuità ci sarà anche domenica e lunedì formando un mini ponte molto utile a chi volesse comprare venendo in macchina.